Un gradito ritorno alla Zaccheria con Giovanni Cavallaro, sarà adabbiato per il risultato, comunque gli farà sempre piacere tornare qui a Foggia? È sempre un piacere tornare a Foggia perché comunque ho vissuto due anni molto positivi, molto belli e quindi la gente mi ha sempre stimato e voluto bene, quindi da parte mia la cosa è reciproca. E' stato un piacere venire qua, però oggi non sono troppo contento perché comunque la squadra ha perso e quindi siamo un po' giù di morale, però ci sta, ci sta perdere con Foggia perché comunque è una squadra importante, è una squadra che gioca in uno stato importante, quindi poi ci abbiamo messo nel nostro chiaramente per far sì di perdere questa partita. Eri anche un po' arrabbiato per alcune decisioni arbitrali? Sicuramente, io da fuori ho visto almeno un rigore netto, clamoroso, non dato, però ci sta, quando viene a Foggia non tutti gli arbitri hanno la personalità di fare quello che è giusto fare, ogni tanto si perdono e quindi c'è danneggiato a noi, tutto qua basta.